Sono in Parlamento, sono incazzatissimo per quello che è successo oggi. I popolari, tradendo il voto in Commissione, hanno votato contro la possibilità che l'Italia trovi i fondi in Europa per realizzare la nostra viabilità del Nord-Est. È stato bocciato la possibilità di realizzare il Corridoio Venezia-Monaco. Tutto questo perché Elisabetta Gardini ha dato l'ordine di votare contro al Partito Popolare. Tutti gli amici degli altri Stati europei hanno goduto di questa possibilità, di evitare che molta ricchezza venisse in Veneto e in Italia per realizzare i nostri corridoi tecnologici e andranno negli altri paesi.